Nicolò Sperotto, Nicolò arriva da questa sconfitta, primo tempo maggiormente in sofferenza della squadra, abbiamo subito la spinta del Gubbio, nella ripresa però c'è stata una grande reazione, peccato per quegli episodi alla fine che hanno girato anche male. Sì, sicuramente il primo tempo l'abbiamo un po' sofferto, abbiamo comunque tenuto il pareggio nella seconda frazione, anche grazie ai nuovi ingressi abbiamo dato una spinta in più alla partita, peccato per il rigore mancato che secondo me poteva esserci e quei tre rimpalli che lì non è voluto entrare alla palla. Nel primo tempo chiuso sotto 1-0, c'è da dire che veniamo sempre puniti da una prudezza degli avversari perché per farci gol la mettono quasi sempre all'incrocio ormai. Sì, diciamo che lì io dal campo non mi sono reso molto conto perché ero in marcatura sull'uomo, però mi sono girato visto la palla che è andata sotto l'incrocio dei pali, quindi sempre euro goal. Comunque dobbiamo ripartire dai nostri errori, analizzarli in settimana e cercare di non commetterli più. Un punto in queste due prime partite sicuramente, diciamo ai punti o nel globale, questa fermata meritava qualcosina in più. Sì, nelle due partite diciamo che sicuramente potevamo meritare qualcosa di più. E prossimamente, sicuramente dalla prossima partita dovremmo cercare di fare il bottino pieno, in quanto ho visto comunque anche che ho fatto un'ottima vittoria e non sarà facile andare contro il Montevarchi, però noi ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti. Grazie a tutti.